L'assemblea del centro-destra che poi fa dei militari, insomma, il lavoro del Polestiere è già deputato nel 94, è praticamente il settore del secolo, per costruire gli stati generali di questo centro-destra. Se da voi gli fa dei militari, è una formazione di centri, è una costola di questo centro-destra radicato. Allora, avete in qualche modo qualche speranza di ricostruire questi stati generali? Io stasera ho visto presenti e ringrazio i numerosi amici, i consiglieri regionali ed esponenti delle forze politiche che tradizionalmente si fanno, amici del nuovo centro-destra, amici del nuovo centro-destra, mi auguro quella parte del nuovo centro-destra che non accetti la deriva al piano verso il PD, le condizioni del PD, amici di noi con Zalbini, questa realtà che è presente anche ad Augustus e in alcuni centri vicini. Quindi attraverso questo dialogo e attraverso l'incontro, il dialogo freconto, visto che si è parlato di segno, che abbiamo trovato, con queste forze, con queste situazioni, noi speriamo di costruire un tavolo di coordinamento tra le forze del centro-destra. Vi una grande assemblea interna, forte e più, tra iscritti, centralizzando i riferimenti per poterci chiarire le idee e per riuscire poi all'esterno proprio con un progetto chiaro e convincente e poi questi stati generali, con un grande ruolo cittadino, al di là della definizione, la sostanza, quello che possa costruire un grande messaggio alla città programmatico di un progetto strategico, appunto, che faccia uscire Augusto dalle secche della sopravvivenza per candidare a vivere un periodo diverso, una grande città e non certamente il momento che stiamo vivendo, sicuramente deprimente. però è una grande città, una città perlomeno che potrebbe aspirare ad essere grande, forse è il nome stesso Augusto, città imperiale, però la città, l'avete detto voi stessi qui, ormai depauverate, vedete la valutazione del nostro Presidente, e quindi lo che potrebbe essere la leva per poter dare fiducia e esploranza a queste vostre esplorazioni. Ho sempre pensato, per esempio, una legge speciale per Augusto e per tutte le realtà similiche, quando si parla di zone franche in Sicilia, sono state attivate delle norme, delle norme, per tanto consentire l'istituzione di zone franche in Sicilia, Augusta, con lo che io, e con l'ordine che ho presentato a livello nazionale, deve essere una difficoltà gemolata, in Sicilia, una zona praticamente di esenzione, che è un liceo fiscale. La grande leva del porto è fondamentale, ma non possiamo affidarlo alle beghe, alle trame di tutti quei soggetti, quegli ambienti, quei gruppi che abbiamo visto. Parliamo di gemellopoli, di gemellopoli. Io, prescindo dalle persone, vado alla sostanza del problema, vado al fenomeno del suo complesso, ma nella sua negatività. La tutela dell'ambiente significa grandi investimenti. Io rinventrico l'onore che per la porta autore e per il piano di risanamento ambientale di essere stato un credo decisivo, determinante, durante la temperatura tra il 94 e il 96, proprio per la realizzazione del risanamento ambientale, che poi purtroppo è un'altra del nonostrazione ambientale, e dell'istituzione della porta autore e poi purtroppo, che poi purtroppo è un'altra successiva, ma alla quale tiene un contributo fondamentale. Noi dobbiamo fare leva su queste grandi regge, non possiamo lasciare Augusta sequestrata, come il Castello Svevo che rappresenta la città, sequestrata, o abbandonata come è il caso dell'Hangar, che vorrei ricordare in sinergia con il mio amico Carmelo Saraceno, Luccio Saraceno, che allora era assessore regionale, mentre io ero parlamentare nazionale, in sinergia con me riuscì a smilitarizzare, a ottenere dal Ministero della Difesa la smilitarizzazione del sito perché se ne potesse ruire in sede comunale o con i supporti regionali e quant'altro. Oggi abbiamo l'Hangar, il Castello Svevo, il Castello Svevo, il Castello Svevo e poi tutto il Cagliar dell'Oglianza, l'Aggersia delle Entrate, un pezzo dell'ospedale, il giudice di pace e chi più ne ha più ne metta, dobbiamo uscire da questa situazione deprimente, dobbiamo costruire un progetto strategico che ridia lustro, vigore, orgoglio e dinamismo. Una domandina, l'ultima, ma perché noi che qui subiamo le conseguenze nefaste dell'inquinamento o della industria di soli selvaggio, come mi ha ricordato il generale Insovia, e paghiamo lo Stato, il signor Di Quattrini.